Sognare si può, la radio con un cuore intorno. Sognare si può, e non è peccato, sognare si può, anzi, devi, se ci credi ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vanaposte. Il profumo che senti in lontananza ti fa vibrare appena riesci a marcare. Senti questa meravigliosa entità nascosta che ti avvolge. L'adrenalina sale a mille, ti senti finalmente a casa. Tre minuti all'inizio, panico. Lo spettacolo sta per cominciare e tu non ricordi più niente. Ma se lo tratti con rispetto vedrai che ti aiuterà. Poi appena le dita e i piedi lo toccano e lo sfiorano, la magia inizierà. Lo spettacolo finisce, sai che devi salutarlo, ma non vedi l'ora di farti riavvolgere dalla la sua magia inizierà. E vivi in funzione nella prossima volta che riuscirai a toccarlo anche soltanto per un attimo. palcoscenico, palcoscenico mio vero amore, palcoscenico amore mio, sognare si può. La radio con un cuore intorno. Sognare si può, e non è peccato, sognare si può, anzi, devi. Se ci credi ogni sogno diventa realtà. Le rubriche divana posto. V.I.P. Music Record, Profesor Sánchez, Edward J. Quando llega al party, todo el mundo la mira, ella se pone así muy atractiva. Le gusta llamar la atención, pura tentación. è una mami che ti saca di concentrazione. la porta del cielo a la luna. Sognare si può, buongiorno. Abbiamo aperto i microfoni, abbiamo in linea Valerio Miccoli di Getter, perché oggi abbiamo un argomento importante, oggi dobbiamo spronare, perché è ora di ricominciare, è ora di ripartire. Valerio. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Sognare si può. Buongiorno a te, intanto salutiamo coloro che si sono già collegati, un saluto a Corrado e a tutti gli altri che io purtroppo non vedo, non vedo tutti, però consideratevi tutti salutati. Valerio, benvenuto. Si ricomincia, tu hai già ricominciato? Sei già ripartito? Abbiamo ricominciato, siamo ripartiti, siamo ripartiti ovviamente con un'attenzione maggiore sulla comunicazione, proprio perché è un momento delicato. E certo che sì, voglio fare un saluto a Elia, ciao, che noi conosciamo, ho buttato giù i microfoni per salutarlo, bene, scusami ti ho interrotto, dicevamo hai ricominciato, abbiamo ricominciato, insomma molti hanno riaperto per fortuna, pur con tutta una serie di limitazioni. Sì, assolutamente. Ma dimmi. Partiamo dopo un periodo di stop totale, sforzato, che naturalmente ha creato non pochi disagi e non poche disavventure a tantissimi imprenditori. E certo che sì. Però, come la nostra cultura ci insegna, noi siamo un popolo determinato, dinamico e proiettato a raggiungimento degli obiettivi, siamo stati forti in altre circostanze, lo dobbiamo essere in questa e deve essere un modo per ripartire da zero. Dobbiamo, nella negatività, cercare di guardare un lato positivo, di cercare di fare le cose e mantenere gli impegni con soluzioni migliori e naturalmente più vantaggiose per noi e per le nostre attività. Questo è un momento particolare. Assolutamente. Ma senti un po', allora, come dobbiamo usare il marketing per ripartire? Dici un po'. Allora. Come dobbiamo muoverci? Allora, diciamo che, essendo il momento particolarmente delicato, ci sono tante paure da parte dei nostri utenti, dei nostri clienti che spingono proprio a cancellare prenotazioni piuttosto che non acquistare un prodotto, un po' per questioni economiche, un po' perché temono per la propria salute o per quella della loro famiglia e hanno il timore, diciamo, di uscire da questa zona di comfort e vedere una realtà profondamente cambiata. effettivamente qualcosa è cambiato, si è attivata purtroppo una selezione naturale dove chi si adatterà al cambiamento continuerà, non in modo semplice ma con tutte le difficoltà del caso, anche con le difficoltà che abbiamo riscontrato fino a questo periodo, riscontrerà che comunque ci sono dei cambiamenti a cui bisogna adattarsi. E per forza di cose, certo. Sì, assolutamente. Quindi una delle prime cose è capire benissimo il momento. Però questo non significa che bisogna smettere di comunicare con i clienti e con il target. Quindi facciamo conto di esserci presi una piccola pausa. Ma adesso bisogna ripartire con un nuovo modo di comunicare, un nuovo piano marketing, soprattutto altamente affidabile e dobbiamo dare anche un certo tono di sicurezza ai nostri clienti. Assolutamente. Ti interrompo un attimo per fare un saluto. In Spagna voglio salutare Riccardo Pellegrini che è un artista tutto tondo e tra le altre cose il nostro commissario Turbion, lui è un cantante, è uno showman, ma fa le cene con delitto, per esempio. Quegli spettacoli che si tengono all'interno delle varie attività, di ristoranti, eccetera. e che si possono ammirare mangiando magari del buon cibo. Quindi voglio fargli un salutone grosso. Anche lui è stato rimasto bloccato in Spagna, però immagino stia ripartendo pure lui. Da qui a breve lo rivedremo, spero, in giro con le proprie attività. E perdonami, torniamo a noi. Dicevamo, non dobbiamo smettere di comunicare. Assolutamente no. Dobbiamo cercare di mantenere un profilo di comunicazione sempre attivo. Dobbiamo naturalmente pensare che stiamo aprendo nuovamente le porte a dei periodi di ripresa, anche se sarà una ripresa lenta, sarà una ripresa comunque complicata per tanti di noi. Perché questo periodo ci ha insegnato parecchie cose, soprattutto ci ha messo nella condizione di poter valutare realmente che cosa può accadere quando c'è una problematica del genere. Quindi ci ha strappato dalla nostra zona di comfort e ci ha tirato fuori, facendoci stare un po' nel limbo e nell'oblio delle situazioni. Certo. E allora, diciamo, cosa devo dire al mio pubblico? Cosa mi devo, cioè, quale può essere la mia comunicazione? Allora, intanto bisogna parlare con onestà intellettuale al pubblico, perché il pubblico capisce il momento, capisce la situazione e capisce naturalmente che questa ripartenza, un po' come comunicato da tutti i media, è difficile. Dobbiamo essere estremamente sinceri, ma dobbiamo avere la capacità di adottare un linguaggio professionale che non crei un, fra virgolette, terrorismo psicologico, perché è quello che poi ha avuto il maggior attacco mentale sui singoli individui. Sì, diciamoci la verità, ci siamo molto spaventati, anche proprio attraverso la comunicazione che è stata fatta, effettivamente. Consideriamo, consideriamo già, ad esempio, la comunicazione che è stata fatta all'interno dei giornali, no? Siamo, partivano tutte le notizie parlando dei nuovi contagi, dei deceduti, delle... E per ultimo hanno messo questa condizione, diciamo, di miglioramento, perché? Perché hanno amplificato un po' il periodo e soprattutto hanno amplificato anche la gravità di questa pandemia, no? Consideriamo che gli ultimi dati statistici, ad esempio, hanno fatto vedere come ad oggi i deceduti di Covid sono stati ancora minori rispetto a quelli di Ebola, piuttosto che per una problematica molto seria che è quella che tantissime persone non riescono ancora a essere sostentate a livello alimentare, quindi... Certo, cioè muoiono molte persone di fame, muoiono, è vero, molte persone anche proprio di tumore, per esempio. Ho visto le statistiche, hai ragione. Infatti, certo, non voglio entrare nello specifico del problema, perché non è, diciamo, la sede opportuna per... No, no, certo. Non voglio entrare nello specifico del problema, però quello che deve far pensare è, guardate come una comunicazione, passatemi il termine, manipolata in questo modo ci ha permesso di avere un'attenzione e particolari caratteristiche rivolte verso questo tipo di problema. Ovviamente è un problema serio e, come ho detto, però naturalmente noi dobbiamo essere in grado di parlare con il nostro pubblico, di far capire che in questa ripartenza c'è un timore, ma che vanno naturalmente un po', non dico placcati, ma vanno gestiti perché le persone vanno tranquillizzate, dando anche delle soluzioni. Ad esempio, è stato fatto per tanti locali di somministrazione, bar, ristoranti, tavole calde, self-service, pub, pizzeria, eccetera. Ad esempio, hanno fatto vedere i percorsi di sanificazione, come hanno ridistribuito gli ambienti, giusto o sbagliato che sia? Questo non lo so, non sono in grado di poter dire se questo tipo di atteggiamento è giusto o sbagliato. Però quello che posso dire, che cos'è? È che ci si è adottati, si è fatto già un passo verso una soluzione. Diciamo una soluzione, anche perché, come si dice nel marketing, tra il dire e il fare non ci sta di mezzo il mare, ci sta di mezzo l'incominciare. Cominciare a muovere un passo alla volta, ponderato, analizzando in maniera logica, rispettando le regole che ci vengono dettate, per una ripartenza, per dare ancora quel servizio, per farci tornare tutti alla normalità. Questo è estremamente importante, anche perché se questo non avviene, ovviamente la nostra utenza è frenata. Assolutamente, certo. E' importante quindi dare un segnale di inizio, un segnale di, come dicevi tu, di ripartenza e con una comunicazione estremamente sincera, riepilogando. Questo mi sembra di aver capito. Voglio salutare Franca Urciuoli, Mimmo del Giudice, Corrado, voglio salutare di nuovo Elia, che sono contenta che ci era in linea. Ciao! E Riccardo, ripeto, che ci ascolta dalla Spagna e questo mi fa molto piacere. Tornando a noi, dicevamo, una comunicazione molto sincera. Quindi, di che cosa possiamo parlare, come dicevi tu? Che cosa dico al pubblico e poi come glielo dico? Intanto abbiamo detto il discorso di sincerità, quindi di far riferimento partendo da un punto di una problematica, creando un'empatia e facendo passare come messaggio la soluzione che abbiamo adottato. Quindi, usare degli elementi chiave, particolari e soprattutto dedicati a far capire, guardate signori, il problema è questo, questo problema l'abbiamo gestito così, abbiamo affrontato questo tipo di soluzione e ci siamo rimessi in condizione di potervi offrire nuovamente il servizio con maggiori tutele. Dobbiamo andare a rassicurare i nostri clienti, a rassicurare le persone, perché se no c'è sempre quel livello di titubanza che ci ferma sull'acquisto finale. Fare finta di niente e cercare di non toccare questi argomenti ha un effetto negativo, perché non si può far finta che non sia successo niente. Assolutamente, invece cercare di evidenziare la situazione, evidenziare le soluzioni, offrire delle proposte commerciali ci avvicina a un effetto positivo al cliente, perché il cliente dice ok, il problema c'è e c'è stato, stiamo ripartendo, come si sono apprezzati, che cosa hanno fatto e come l'hanno fatto. Abbiamo risposto a tutte le domande che gli utenti hanno necessità di avere come risposta e naturalmente a guadagnare di nuovo la loro fiducia, perché consideriamo che adesso la fiducia sta venendo un pochettino meno, perché? Perché abbiamo paura personalmente, perché abbiamo magari un approccio diverso verso il mondo esterno, già ad esempio il fatto di aver sintetizzato anche solo l'igiene, nel senso di dire lavarti le mani ogni tre per due, una volta se lo facevi potevi sembrare ipocondriaco, adesso è stata la normalità. E questo deve passare come un messaggio, deve passare come per dire ok, non c'è nulla di strano, ci chiedono di fare questo, perché gli addetti ai lavori che sono molto più addentrati e molto più esperti in questa situazione di noi, ci danno delle soluzioni, le possiamo adottare, ci cambierà la nostra vita, perché cambierà anche il modo di vivere probabilmente, adesso questo lo scopriremo da qui in avanti, da come arrivano le cose, ma soprattutto abbiamo la possibilità di essere a fianco del nostro cliente e di dire al cliente, guarda noi siamo qua con tutte le difficoltà, con tutti i pochi aiuti che abbiamo ricevuto, perché comunque per tanti gli aiuti sono stati veramente pochi, però ci siamo messi in condizione di offrirti nuovamente un servizio sicuro ed affidabile. E questo è importante effettivamente, anche perché la nostra vita, le nostre abitudini quantomeno per un po' necessariamente sono cambiate e cambieranno, nel senso che adesso bene o male abbiamo imparato e dobbiamo comunque in qualche modo convivere con le mascherine e con l'abitudine di lavarsi le mani, ma lo facevamo già anche prima in realtà, però in maniera un po' spasmodica, abbiamo dietro sempre tutti l'igienizzante, ogni tre per due siamo lì a igienizzarsi le mani, quindi una sorta di abitudine diversa necessariamente l'abbiamo comunque presa e ci conviveremo per un po', quindi ovviamente è importante cercare di comunicare un messaggio rassicurante per toglierci la paura che comunque in qualche modo ci ha costretto a casa per tanto tempo e alle volte per alcuni potrebbe anche essere un'abitudine di comfort, come dicevi tu, sai che come dicevamo c'è un tempo di cui si ha bisogno per abituarsi, normalmente sono i 21 giorni famosi, per prendere nuove abitudini e noi ne abbiamo passati ben di più con queste abitudini e ancora dovremo continuare perché ovviamente ci sono delle norme che dovremmo continuare a seguire, quindi mi sembra molto importante quello che tu ci hai appena detto, rassicurare le persone e trovare una maniera corretta di convivere con delle limitazioni in maniera quasi normale, in modo che si possa tornare a vivere in maniera, come posso dire, quasi nella normalità. Voglio fare un po' di saluti Valerio, voglio salutare Mauro Baoretto che ci sta ascoltando, Danilo Tacchino, ciao Danilo, Antonella, Antonella Perrucci, Fabrizio, ciao Fabrizio, Stefano El Rubio, ciao Stefano e tutti gli altri, Mimmo, Mimmo del Giudice, che piacere e tutti gli altri che io purtroppo non vedo e che quindi o che si collegheranno in un secondo momento, io saluto anche da parte tua tutti, 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 quelli che vedo naturalmente. Mi aggrego i saluti. Ecco, è molto importante quello che ci hai detto perché come dicevamo dobbiamo imparare a convivere con questa nuova situazione, in maniera quindi riepilogando molto sincera e rassicurando quelli che sono i nostri clienti, in modo che possano sceglierci, è giusto? Assolutamente sì, ma soprattutto invito le persone a guardare ad esempio i nuovi spot pubblicitari delle grandi multinazionali, come è stato della Grana Padano, come è stato della... Dobbiamo di farci sentire, ok, ripartiamo, dobbiamo ripartire più forti di prima con le difficoltà del momento, ma naturalmente speranzosi di puntare a una rinascita e a un concetto rassicurante. Grandiosa, questo è molto importante effettivamente. Senti, allora, la nostra mezz'ora sta volando, quindi io vorrevo chiederti di ricordare intanto come poterti contattare e volevo anche ricordare la possibilità che tu hai dato ai nostri ascoltatori di contattarti per chiedere una consulenza. Sì, assolutamente, allora, intanto faccio un piccolo preambolo, quello che è naturalmente stato anche nell'attuale periodo di Covid, la mia disponibilità ad affrontare gratuitamente una prima consulenza per capire e per dare dei consigli su come, diciamo, ripartire dopo questo periodo. Abbiamo adottato anche con il mio staff che collabora con me, questo modus operandi anche per il futuro. Come vi ho già detto anche in altre puntate, abbiamo adottato già da tempo questo sistema che è quello di aiutare le imprese, non con dei costi fissi altissimi, ma con una piccola base e soprattutto una royalty su quello che è il venduto. Perché? Perché ci assumiamo anche il rischio di impresa, perché il nostro obiettivo è quello di aiutare realmente le imprese. Ovviamente i costi ce li abbiamo, però se riusciamo a limitarli e riusciamo a lavorare insieme in una direzione, possiamo rischiare insieme, ma soprattutto possiamo arrivare a un obiettivo insieme. Il tutto lo potete fare tranquillamente dal mio sito internet www.getter.it dove nella sezione contatti c'è un form di contatto, dove ci sono dei contatti telefonici che il contatto telefonico prioritario è il mio cellulare diretto che è 339-10-62543 dove mi potete contattare, anche mandare un messaggino WhatsApp dicendomi guarda sono il signor Mario Rossi, ho sentito la diretta, volevo avere un tuo parere, ci sentiamo, ci possiamo vedere via Skype. Dalla prossima settimana per chi avrà anche necessità, ovviamente su Torino e dintorni, perché in questo momento cambiare regione diventa difficile, posso dare anche la possibilità magari di prenderci un caffè insieme e valutare quello che può essere una strategia. Oltre ai contatti social, su Facebook, nella pagina getter.it, su Instagram e naturalmente su LinkedIn. Quindi rimango a disposizione e rimango soprattutto disponibile nei confronti di chi ha piacere di cercare di capire come ripartire per il benessere comune, perché ricordiamoci sempre una cosa, un'azienda è una partita IVA, ma all'interno di questa partita IVA ci sono delle persone che ci lavorano e ci sono delle famiglie che generano reddito per la sopravvivenza attraverso questa attività. E deve essere un imperativo assoluto naturalmente l'attenzione alla persona, quindi se le cose vanno bene per la persona vanno bene anche per l'azienda e il cambio è reciproco. Esatto, questo è fondamentale. Io ti ringrazio anche per queste parole e anche per questa tua disponibilità che secondo me è molto importante. Insieme si può ricominciare collaborando e creando qualcosa di buono. Voglio ancora salutare Antonio Riverso, Giampiero Udero, Roberto De Giorgio, Ciao Toni, Toni Iena che è stato nostro ospite qualche tempo fa, Mario Paesano e tutte le altre persone che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno, ricordando che se hanno bisogno di una consulenza, di una prima consulenza, tu sei a disposizione gratuitamente. I contatti ce li hai ai dati, magari poi li ricordiamo, li mettiamo sotto il link in modo che le persone possano cercarti con facilità attraverso il tuo sito web ma anche attraverso i social. Quindi Valerio Miccoli, lo cerchiamo e lo troviamo dappertutto. Io ti ringrazio tantissimo. C'è qualcosa che vuoi dire in chiusura? C'è qualcuno che vuoi salutare? Allora, voglio intanto ringraziare te e la tua disponibilità sempre per questo appuntamento che ormai è diventato parte integrante del mio percorso professionale. Grazie. Voglio farti complimenti per la tua trasmissione. Voglio salutare un po' tutti, adesso non posso rincare tutti quanti, ma intanto saluto tutti quelli che hanno seguito magari la diretta e tutti gli utenti di Radio Web Sognare Si Può. E soprattutto voglio dire l'ultima cosa che è quella di credere sempre nei nostri progetti, nei nostri sogni, ci sarà da lavorare duro, ma se ci mettiamo insieme e se riusciamo ad essere determinati, come prima riusciremo a passare anche questo periodo. Grazie, grazie perché ci vuole veramente anche un messaggio di speranza. Come tu sai io ci credo moltissimo perché ovviamente non bisogna, come dicevamo, mai mollare e insieme collaborando senza appunto abbattersi possiamo ricominciare anche seguendo i tuoi consigli. Quindi io ti ringrazio, ti ringrazio moltissimo. È arrivata anche Maria, ciao Maria Rosaria che ci fa un ciaone con tutte le maiuscole e ne abbiamo bisogno, grazie e niente. L'appuntamento quindi è alla prossima, grazie Valerio per le tue informazioni, ricordiamoci che possiamo contattarlo e ragazzi Sognare Si Può, alla prossima, mi raccomando. Grazie, buona giornata a tutti. Buona giornata, alla prossima. Buona giornata, alla prossima. Sognare Si Può, la radio con un cuore intorno. Sognare Si Può, e non è peccato, sognare Si Può, anzi devi, se ci credi ogni sogno.